Mi auguro, adesso che il partello si fa anche l'opposizione di questo giro almeno consiglio, ho un'opera di vicino che non è passato, quindi mantengo tutta cassa, anche perché con c'è la vicina, anche nell'esposizione l'avventura che fa. Non avendo ancora, mi correo per fare il bravo prestatore di non farti alcuna domanda. Mi auguro per due curiosità tecniche. Una, se ci sarà il Consiglio comunale del 18 settembre, se ci sarà, quindi 5 minuti, poi la risposta è dubbio, poi la risposta è diversa. Io ritengo che, come dice gli altri, quando c'è città la materia del contesto, il contesto si è simile. Ritengo che non ha più sensi. Domani mattina, dovevamo comune, formalizzerò una risposta al Consiglio di Abano, rispetto al proposito che mi era stato posto, l'ultima cosa che non ho fatto a Presidente, quindi non ho dato da una segnale di istituzione che ha avuto il segretario generale, e vedi con un segretario generale che mi sono le condizioni del potere sospetti, dovrebbe essere in un Consiglio comunale del 18 settembre, da un punto di vista per fare un'altra curiosità tecnica, la voglio, che non mi dà il permesso, anche se vorremmo dire, di dare un valore sostanziale al segretario del Partito Democratico, non hanno avuto. Perché? Il Dottore, quando è stato da anni, non si vedeva, che sì, questa figura politica, la pensa da molti anni, non ci sono anche qualcuno che si può pensare di me, in grado, non ricordiato che ci sia tanto di noi, che questa figura politica venisse scoperta, poi sbagliato la sabbia, significato l'obbligatorio, in materia, in maniera attiva, davanti al sbagliato. Io non lo so, non penso l'ignoranza, non lo so, e penso che non piaceremo, avendo che qui mi ha detto che ci sia stato comunicato da parte di altre persone, un nome che non mi ricordo mai sia, questo nome che è un progetto di uno di quattro o cinque di patate, ho fatto il nome di voi che avete firmato questo documento, mandato dalla stanza. Io ti posso garantire, per la tua squadra, che quando riguarda la strama, non tutti, qua ci stanno, quasi tutti i giornali, per essere in sala, non manca nessuno che si sembra, non tutti abbiamo una persona. Ti posso garantire che il Catole 2, il Catole 2, il Catole 2.it, l'uomo, l'uomo e l'uomo. Quindi a questo punto, non conoscendo questo comunicato, ho con mezzo, chiedo allo Dottore Bustini di parito di articolazione di sapere, oggi, a questo momento, in particolarmente come questo. Allora, la questione è in Allora, il comunicato è un'attività, ma è un'attività. Il comunicato è un'attività che dice, se di poco bene, toglierla la comunicazione, per confermare. Questa è una storia che io posso difermine per quanto compende comunicazione di attenzionalità. E' un piano che è 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 un piano. E' un piano che è 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 un piano. un momento, un'organizzazione, un'associazione, esiliato dei democratici del caso, è poco e invece lo capire, il Partito Democratico è evidente che l'ha presentato e sarà un'immagine di nostra società e della nostra vita. Quindi quel fatto è quello che si fa con noi? Il nostro è un'organizzazione del Partito Democratico, e io dico che quattro sono stati fuori dal Partito Democratico, non ho dettito, non ho dettito, non ho dettito l'intenzione, ma dicono che i suoi uomini e i suoi uomini di questa cosa non devono portare solo dei presenti che risponderanno le festeghe loro dedicate, ma anche a loro contatti che dov'è questo? C'è il... si spessono, che volete vedere, quindi il tipo di coso che ti mi ha realizzato, ma questo è un diverso, che si è un paragone di guardia, ma questo è un ragione di un valvissimo che è stato vicinissimo a questa scuola, c'era anche l'assessore olettrice che voleva dire che io mi vi avevo stato dimenticato perché non mi avevo tutto dimenticato. Vieni, c'è stato un attento di un alternativo, sono perduto. Grazie.